Bene, quindi benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua in questo video per andare un po' a parlare delle notizie della Calabria e quest'oggi diverse notizie da approfondire per quanto riguarda le notizie delle calabresi e della calabria tantistica e vi direi che possiamo subito partire dalla notizia in casa reggina perché è successo una curiosità un po' particolare, diciamo così infatti c'è stata un'istanza di arbitrato da parte della reggina, cioè vi vado a leggere che cosa significa così capiamo bene senza che ve lo spieghi perché è giusto che ve lo legga così si capisce meglio piuttosto che spiegare allora che cosa è l'istanza di arbitrato? È una richiesta di un ente di avere un arbitrato amministrativo quando vi è posto in essere un mancato pagamento manifesto, ossia quando il presunto debito non vuole pagare un presunto credito cioè Gallo ha un debito da pagare, che non vuole pagare, quindi che cosa fa? chiede l'arbitrato, cioè un arbitro che è un magistrato solitamente oppure anche un notaio che decide se questo debito vada pagato o meno, quindi Gallo chiede questo arbitrato ok, ha un debito che ne so con me, Gallo ha un debito con il sottoscritto chiede l'arbitrato, cioè chiama un magistrato e il magistrato dovrà decidere se il debito che Gallo ha nei miei confronti dovrà essere risolto oppure no, semplicemente questo è il discorso quindi si è parlato di tutto in questi ultimi giorni a Reggio Calabria di un Gallo comunque che ha debiti su debiti si è parlato di punti di penalizzazione ma in realtà comunque è qualcosa che non dico che lascia il tempo che trova però non è che ha di grandi conseguenze anche perché questo aspetto è anche già successo con il procuratore di Sarao e di Rossi in cui tra l'altro la legina fu condannata a pagare quindi è già qualcosa che è successo e che quasi nessuno se ne è accorto quindi per farvi capire quanto effettivamente poi non è che abbia grandi conseguenze questo tipo di richiesta comunque vedremo un po' che cosa accadrà, certamente vi terrò aggiornati però ripeto, non è che succede il finimondo per quanto riguarda invece le altre notizie si parla di diversi, due notizie in casa a Cosenza di calcio e mercato in realtà una in entrata e una in uscita perché Cosenza sarebbe interessato a Varela stiamo parlando di un esterno, di un'ala offensiva del Gladiator, squadra che milita nel girone H di Serie D se non mi ricordo male comunque milita in Serie D, ha fatto un ottimo inizio di campionato ha l'offensiva comunque molto interessante e Cosenza che aveva pronto un triennale di contratto per portarlo in Calabria ovviamente Cosenza che opererà sul mercato vedremo quale sarà il diktat che sceglierà la società assieme a Goretti e al Mister perché se vi ricordate Goretti ha fatto una conferenza in cui ha detto che bisognerà scegliere se fare un mercato in cui andare a prendere i calciatori pronti subito ma che poi magari possono non essere confermati in vista della prossima stagione oppure andare a prendere i calciatori che saranno più importanti per il Cosenza in prospettiva quindi evidentemente giovani vediamo un po' comunque Varela potrebbe essere un rinforzo molto interessante calciatore giovane che sta facendo bene, rampa di lancio perché comunque non puntarci se il direttore sportivo lo ritiene giusto per quanto fa la notizia in uscita si parla di Minelli difensore classe 1999 che potrebbe essere in uscita in realtà sarebbe un'uscita non direttamente dalla Cosenza ma indirettamente perché Minelli è in prestito alla Juventus 23 quindi con il benestate della Juventus 23 potrebbe andare negli ultimi sei mesi di contratto con il Cosenza in prestito si parla del potenza interessato in Serie C potenza comunque di Mr. Trocini che sta adottando per la salvezza Minelli che a Cosenza sta trovando poco spazio negli ultimi tempi ha trovato più spazio Venturi che fino a questo momento non aveva praticamente mai giocato Minelli invece è relegato in panchina quindi per non perdere tempo potrebbe anche chiedere la cessione e andare a fare esperienze in C vedremo un po' comunque notizia sicuramente importante ma detto questo proseguiamo con la calabria elettantistica e nello specifico in Serie D perché ci sono due notizie in Casa Cavese la prima è legata allo stadio infatti per quanto riguarda lo stadio è stata aumentata la capienza della Curva Sud la Curva Sud quindi adesso avrà una capienza di 950 posti e ovviamente con le regole del virus le regole dettate dal governo il massimo della capienza è il 75% quindi sarà il 75% di 950 ma certamente è importante perché i lavori sono terminati quindi è stata aumentata la capienza della Curva Sud e quindi la Cavese avrà a disposizione più poste sedere per i tifosi in vista poi anche delle prossime giornate e dei prossimi anni non solamente per ovviamente l'oggi ma un'altra notizia riguarda la panchina perché ci eravamo lasciati negli scorsi video con l'esonero di Ferazzoli e arriva il nuovo mister infatti firma mister Troise rinforzo per la panchina di altissimo livello fino all'anno scorso ha allenato in C al Mantua con un Mantua che comunque ha fatto una stagione discreta allenatore di alto livello che è ancora relativamente giovane perché comunque negli ultimi anni ha fatto diverse esperienze importanti tra l'altro vincendo anche la Primavera 2 e la Supercoppa Primavera con il Pescara e comunque ha fatto esperienze importanti anche a livello giovanile l'anno scorso con il Mantua l'ho fatto discretamente è un'attore ancora relativamente giovane ma che ha delle ottime idee tecnico-tattiche soprattutto tattiche perché poi tecnico dipende dalla squadra però certamente per la Caveso è un rinforzo importantissimo ha già comunque sordito sulla panchina vincendo con il Real Aversa per 1-0 gol di Diaz all'ottantesimo tra l'altro e per il resto è un'ufficialità molto importante secondo me non tanto corretta più che altro perché Ferrazzoli è stato tornato un pochino troppo presto nel senso che comunque è vero che sono tanti i punti di distacco dalla Gelbison però è più che altro la Gelbison che sta facendo un campionato a parte più che il resto quindi comunque alla fine Ferrazzoli ha pagato arriva Troise che è un'attore di altissimo livello ripeto ha fatto categorie superiore fino all'anno scorso può fare certamente bene vedremo un po' se queste premesse verranno confermate notizia però anche in casa Giarre un Giarre che sta deludendo le aspettative si pensava un campionato molto più tranquillo invece è relegato nelle ultime posizioni di classifica e ci sono ripercussioni sulla panchina perché viene esonerato Infantino purtroppo perché Infantino comunque a me è un'attore che è sempre comunque piaciuto soprattutto negli ultimi anni a Cittanova ha avuto un rapporto con Cittanova un po' di amore e odio nel senso che prima è arrivato poi è stato malato via poi è tornato era uno scorso soprattutto io mi aspettavo anche io qualcosina di più da questa avventura in quel di Giarre purtroppo per lui non è successo e quindi arriva a queste zone considerando comunque gli ultimi risultati molto molto negativi ecco per quanto riguarda il sostituto è un ritorno perché ritorna sulla panchina del Giarre mister Cacciola che era l'allenatore comunque che ha iniziato la stagione perché il Giarre ha iniziato il percorso in serie di quest'anno con Cacciola l'ha mandato via ha preso Infantino che ha allenato il Giarre per un mese e mezzo circa due mesi e adesso comunque esoterato Infantino ritorna Cacciola sulla panchina un po' come Pilatella a Biancavilla è un ritorno un po' di quel tipo lì avrà certamente un bel da fare perché il Giarre ha pareggiato tra l'altro a Trollina in uno scontro salvezza però comunque dovrà macinare tanto per ottenere la salvezza quest'anno sarà veramente veramente complicato però comunque sicuramente anche anche Cacciola saprà cosa fare l'ambiente lo conosce e potrà ritornare cercando di migliorare comunque quello che non ha fatto comunque bene a inizio anno questo è un po' il punto cambio in panchina però anche in casa Trapani rimanendo in Sicilia Trapani che esonera Criaco anche se non è che sia un esonero di spicco perché comunque Criaco era allenatore in seconda di Moschella ha allenato il Trapani per qualche per qualche giornata tra l'altro anche per la partita di Coppa Italia con l'Efecce Messina che ha vinto poi quindi qualche risultato positivo lo ha portato a casa a Criaco nonostante questo quindi c'è la decisione contrattuale e di conseguenza quindi non non sarà più allenatore alla fine decisione che ci può stare perché il Trapani considerando anche gli obiettivi ha voluto puntare su un allenatore comunque importante e proprio non lasciare comunque da parte la parentesi Moschella in tutto e per tutto quindi mandando via anche il secondo e arriva come un allenatore un allenatore comunque navigato di esperienza che può assolutamente far bene cioè Morgia Morgia è un allenatore comunque di alto livello per la categoria saprà certamente che cosa fare ha già comunque fatto bene la prima giornata perché ha vinto con il Saluca di Mister Canonico per ben 2 a 0 nella prima uscita stagionale di Morgia avrà certamente ripeto un bel lavoro un bel lavoro da compiere perché il Trapani si trova in una situazione di classifica complicata soprattutto rispetto alle aspettative iniziali però secondo me può assolutamente risalire la china considerando che comunque Morgia è un allenatore di livello importante ma rimanendo a parlare di questione panchine ci spostiamo in eccellenza calabrese e parliamo del Bocca Nuova Merito perché c'è un cambio in panchina anche in questo caso infatti Mister Saviano rassegna le proprie le sue dimissioni comunque da Mister allenatore del Bocca Nuova Merito dopo la sconfitta con il Gallico Gatona in casa nel derby Regino di Bocca Nuova Merito quindi si ritrova a cambiare allenatore è un po' un addio brutto diciamo perché con Saviano comunque si era intrapreso un percorso inizialmente importante le aspettative erano abbastanza alte aspettative comunque deluse dalla non tanto dalla squadra quanto più dei risultati perché poi a livello in termini di risultati il Bocca Nuova Merito sta facendo molto male occupa l'ultima piazza in classifica nel campione di eccellenza calabrese e quindi certamente qualcosa andava cambiato però comunque anche interessante il fatto che non sia un esonero questo ma più una anzi una vera e propria dimissione quindi è l'allenatore che evidentemente non ha più gli stimoli oppure non ha più lo spazio per poter salvare la squadra questo è perché sennò comunque comunque non non si spiega sulle sue dimissioni evidentemente ha voluto anche provare a dare una scossa cambiando allenatore cioè praticamente si è messo nei paesi la società ha detto qui per salvarsi serve una scossa purtroppo io devo pagare perché sennò la scossa non arriva quindi ha almeno a quanto si può comprendere anteposto la società ha al suo stesso lavoro quindi certamente questo è un motivo di di complimenti nei suoi confronti e alla fine date le dimissioni di Saviano arriva un nuovo allenatore che in realtà non è un arrivo ma più che altro è un ritorno perché sulla panchina di bocca al momento si siede mister la faccia che tra l'altro ha già esordito con il Soriano prendo 3 a 0 però era un po' una prima partita abbastanza prevedibile una sconfitta anche considerando che sono stato facendo molto bene in campionato in questo ultimo periodo e certamente comunque con la faccia in panchina arriva tanta esperienza perché è un attore comunque navigato in queste categorie ha sempre comunque fatto fatto comunque bene anche a boccale perché con il bocca al nuovo medito ha fatto 4 anni consecutivi fino all'anno scorso fino alla decisione di puntare su Saviano per quest'anno alla fine la società e Coriandro ritornano sui propri passi e riprendono la face che comunque è una garanzia vedremo se riuscirà effettivamente poi con le sue idee con il suo gioco a portare il bocca al nuovo medito alla salvezza non sarà sicuramente semplice perché il distacco attualmente è tanto però il tempo c'è sicuramente anche con il mercato dovesse il bocca al nuovo andare magari a cedere quei calciatori che stanno facendo male e andare a puntare su calciatori importanti per la categoria sicuramente può risalire la china e ultima notizia proprio di calcio mercato perché c'è un colpo importante in casa legge mediterranea che continua comunque in campionato ovviamente a giocare e tra l'altro legge med coinvolta anche in coppa in coppa italia e fa un colpo di calcio mercato importante più che altro a livello proprio numerico perché alla legge med servono calciatori per poter affrontare due competizioni già comunque la legge mediterranea così come l'ocri così come l'acri così come il soleno sta giocando praticamente ogni tre giorni per via delle partite di coppa italia e non ha comunque a livello numerico una rosa adeguata per poter affrontare questo tipo di percorsi quindi ha dovuto e sta cercando di rafforzarsi sul mercato proprio per limare questo problema qui e comunque ufficializza un colpo molto importante perché arriva per il reparto difensivo Barbusha difensore classe 1990 giocatore di assoluta esperienza che ha giocato principalmente in Argentina in Serie D ed eccellenza argentina in Italia in realtà non ha avuto esperienze quindi è la sua prima esperienza in Italia in eccellenza calabrese colpo comunque in stile legge med quindi argentino sudamericano giocatore ripeto di esperienza può certamente dare una mano alla squadra e vediamo se effettivamente poi si può potrà risultare utile per la formazione di mister di mister misiti non sarà semplice anche anche per lui perché il campionato comunque di eccellenza è un campionato difficile però avrà il suo spazio e saprà dimostrare quanto effettivamente vale a questo punto io mi fermo ci vediamo con un prossimo video ciao ragazzi ciao